per la torta di sfoglia al farro per il composto al farro quindi per il ripieno 125 g di mandorle con la buccia 50 g di zucchero di canna grezzo 35 g di farina di farro integrale 25 g di mandorle amare 125 g di burro per il composto al farro sempre 200 g di albume d'uovo 80 g di zucchero di canna grezzo e 100 g di tuorlo d'uovo per la finitura 400 g di pasta sfoglia 80 g di mandorle a filetti 35 g di zucchero in granella 15 g di zucchero bucaneve 65 g di amarene per la da sempre 40 g di confettura di amarene prepariamo subito il ripieno il ripieno che è un francipane mi devo preparare della farina di mandorle quindi vado nel mio freezer dove ho messo le mandorle con la buccia miscelate insieme con le mandorle amare queste mandorle qui dovremmo ridurle in farina facciamo partire diamo un'occhiata dobbiamo ottenere una polvere molto fine si chiama farina di mandorle proprio perché la granulometria che dobbiamo ottenere è quella di una farina quindi una polvere quasi impercettibile abbiamo bisogno che la farina di mandorle sia dello stesso potere assorbente di una farina quindi deve essere in polvere nel frattempo mi ammorbidisco il burro a microonde ok microonde oppure lo lasciamo un paio di ore a temperatura ambiente deve essere comunque un burro che si riesca a montare con la planetaria insieme alla foglia ecco perché ho bisogno di scaldarlo a microonde perché naturalmente non riuscirei mai ad montare un burro duro di frigorifero quindi vado a mettere il burro nella planetaria ci metto prima la faccio partire un attimo in modo da ammorbidire un po il burro e da iniziare a incorporare un po di aria a questo burro quindi renderlo più impomata ed incorporare dell'aria poi abbasso al minimo perché altrimenti facciamo volare dappertutto lo zucchero a velo e iniziamo ad aggiungere lo zucchero a velo in questa fase dobbiamo incorporare dell'aria e rendere la massa più spumosa possibile questa operazione la sto facendo con la planetaria ma naturalmente a casa chi non dovesse avere la planetaria lo può fare con un frullino sconsiglio l'operazione manuale con una frusta a mano con una spatola perché non si riesce a incorporare l'aria al burro è troppo pesante l'operazione da fare a mano mi tiro via la mia farina di mandorle dove abbiamo messo a punto anche lo zucchero di canna e la vado a versare dentro al burro che oramai ha incorporato un po dell'aria non è che è ancora montato del tutto è a metà montatura si ferma si unisce la farina di mandorle con il resto dello zucchero e si continua a far montare stacchiamo un pochettino dalle pareti e andiamo a incorporare nella massa che sta montando il tuorlo d'uovo poco alla volta cioè uno alla volta un tuorlo lo facciamo assorbire un altro tuorlo in modo che permettiamo alla materia grassa quindi al burro di legarsi bene con la parte acquosa del tuorlo d'uovo continuiamo il composto di burro, già mi porto avanti e metto nella planetaria l'albume con lo zucchero semolato l'altra dose di zucchero che avevamo nella ricetta e faccio montare la farina di farro naturalmente la farina di farro non la setaccio perché se setaccio la farina di farro integrale tutta la parte ricca di crusca che c'è all'interno mi rimane nel setaccio a sto punto faccio diventare una farina raffinata quindi non va assolutamente setacciata la verso all'interno tutta insieme e mescolo dal basso verso l'alto questo composto va utilizzato subito, non va messo in frigo se no il burro inizia a rassodarsi e non riusciamo più a lavorarla quindi nell'attesa che l'albume monta non la mettete mai in frigo intanto mi preparo gli stampi ungendoli molto bene questo perché abbiamo bisogno che la sfoglia cuocia bene sotto anche questa è una cosa che ho già detto ma mi piace ripetere sulle cose molto importanti perché sono dettagli ma che fanno la differenza la pasta sfoglia a contatto con il metallo fatica a cuocere nella parte sotto quindi ungendo il burro nel forno arriva a 180 gradi anche lui perché la materia grassa si scalda molto e mi farà da croccantizzazione della parte sottostante quindi senza burro rischiamo che la torta rimanga cruda sotto io prima parlavo di composto frangipane questo è un frangipane un po' anomalo in quanto è un burro montato con la frutta secca all'interno quindi come tutti i frangipane però poi ha l'albume montato dentro una leggera variante sul tema quindi verrà un composto in forno più areato più simile a un tortino piuttosto che a un frangipane più simile a una sorta di pan di spagna con la frutta secca all'interno ecco questo è il ripieno della nostra torta vedremo poi come gonfierà nel forno un ripieno che sarà morbidissimo e tenderà a crescere molto in altezza grazie all'aria incorporata agli albumi questa l'ho fatta con farina di farro bianca non integrale anche se si potrebbe fare anche con l'integrale ma per avere la possibilità di una maggior crescita nel forno con la farina integrale si ha una sfoglia sì magari più rustica e più salutistica se vogliamo però abbiamo un po' più di difficoltà di crescita nel forno perché la crusca va un po' a rompere le lamelle di sfoglia e quindi la sfogliatura mi preparo la pasta sfoglia e questa operazione va fatta sempre a sfoglia molto fredda vado a stenderla a questo punto prendiamo una rotella taglia pasta lo stampo ben imburrato e lo andiamo a mettere sopra la pasta sfoglia vediamo bene come comportarsi cioè devo tagliare un cerchio molto più grande rispetto alla tortiera molto più grande attenzione perché adesso vado a prendere la mia pasta la vado a mettere dentro lo stampo in questo modo e abbasso i bordi facendo ruotare lo stampo e portando verso il centro, verso il basso la pasta sfoglia questo dovrà essere il risultato cioè molta pasta che fuoriesce fuori buca sfoglie andiamo a bucare la sfoglia sotto in questo modo molto bene la bucchiamo confettura di amarene confettura di amarene che darà una nota di acidità alla nostra ricetta mettiamo la confettura di amarene sul fondo e facciamo uno strato così qua e là sotto e andiamo a metterci il nostro strato di ripieno andiamo a tagliare un po' di pasta in eccesso cioè a regolarizzarla un po' la pasta che sia tutto uguale mandorle a filetti quindi filettini di mandorle spolveriamo con granella di zucchero la superficie e mettiamo le strisce di pasta in questo modo una e la strappiamo qua due tre facciamo tre e tre risvoltiamo in questo modo cioè pieghiamo in dentro con le dita e facciamo una sorta di bordo smerlettato andando a incastrare le strisce dentro al bordo di pasta in questo modo ok e questo è quello che dobbiamo ottenere per infornare 160 gradi per lungo tempo evitiamo e diffidiamo le cotture brevi a forno alto sempre il contrario e questo è un po' il risultato che si ottiene lasciandola a 160 gradi per un'oretta di circa adesso prepariamo con un fogliettino di carta delle strisce le andiamo a mettere sopra la crostata sopra la torta di sfoglia dove ci sono le strisce di pasta sfoglia sotto in modo che non spolveriamo le strisce ma spolveriamo solo la parte del ripieno se questo zucchero lo mettiamo in frigo adesso viene poi assorbito andiamo a richiamare con qualche amarena qua e là il fatto che dentro ci sono le amarene con le decorazioni è sempre bello andare a richiamare il ripieno della torta con le decorazioni quindi quando uno mangia sa già che cosa va a mangiare perché saprà già che la torta sa di amarene perché nella decorazione vede le amarene ancora qualche filettino di mandorle qua e là questa torta è buona sia fredda ma anche leggermente tiepida perché la pasta sfoglia darà il meglio di sé che cosa va a mangiare